Buonasera a tutti amici di rubrica Rosso Nera, vogliamo parlare oggi del progetto Giovani, del progetto Giovani che da quando c'è Gazzidis tanto si parla, se ne è parlato tanto in questi due anni di gestione Iliot e per oggi vogliamo fare un piccolo riassunto, un piccolo, diciamo una piccola, trattiamo in maniera specifica questo determinato argomento, il progetto Giovani, Ivan Gazzidis avrebbe individuato, diciamo avrebbe, usiamo il condizionale perché fin quando non ci sarà l'ufficialità non si può sapere se sono voci vere, se poi accetterà veramente Ralf Ragnik di venire in Italia, però secondo quanto ci risulta, secondo quanto risulta altre testate giornalistiche, Ivan Gazzidis avrebbe contattato Ralf Ragnik per il prossimo anno per guidare la panchina Rosso Nero con un ruolo da manager, da manager all'inglese, con un ruolo di allenatore direttore sportivo, con la durata di tre anni di contratto e più opzioni per il quarto anno. Partiamo dai lati positivi, allora il lato positivo è che è un uomo che viene scelto da Gazzidis per la prima volta, Ivan Gazzidis si è sempre fidato di quanto hanno scelto negli scorsi anni Leonardo e Maldini, e quindi non erano mai uomini suoi scelti da lui, quindi per la prima volta Ivan Gazzidis prende la responsabilità secca, decisa di scegliere lui l'allenatore, Ivan Gazzidis sceglie Ralf Ragnik, primo porto è positiva, quindi dovrà dimostrare che la sua scelta sia valida. Secondo punto di forza, Ralf Ragnik gli viene fatto un contratto, che potrebbe essere anche un punto di debolezza, ma Ralf Ragnik gli verrà fatto un contratto di tre anni con opzione per il quarto anno. Punto di forza è la società crede, il fondo Elliot crede fortemente nell'operato di Ralf Ragnik, si torna a programmare di medio-lungo periodo, conseguenza negativa, se Ralf Ragnik fallisse, il Milan avrebbe a bilancio un profilo, un allenatore oneroso da pagare per qualche anno. Però punto positivo, facciamo finta che vada bene, il Milan torna a programmare con un allenatore, con un contratto di tre con l'opzione per il quarto anno. Quale sarebbe la visione, quale sarebbe la filosofia del club? La filosofia del club è abbassare il monte in gaggi. Il Milan per tornare ai livelli di un tempo dovrebbe alzarli, questo è vero, però per tornare ai livelli di un tempo e per poter partecipare alla Champions League, il Milan deve fare un pareggio di bilancio, deve consolidare lo stato economico del club, cercare di salvaguardare le casse rosso-nere, cercare di non avere rossi a bilancio, perché anche se Milan incominciasse a spendere tantissimi soldi e andasse in Champions, ma avrebbe forti rossi di bilancio, il Milan non potrebbe disputare le partite, quindi non avrebbe nessun senso. Il Milan vuole prima sistemare i conti, che con la gestione di Berlusconi negli ultimi anni e con la gestione del cinese di Yangon, gli i conti erano strai rosso. Quindi Ivan Gazidis ha questo compito di abbassare il monte in gaggi, già con la gestione di Piontek, comunque, e soprattutto anche la vendita di alcuni giocatori, anche la gestione di Caldara, quindi hanno comportato comunque un abbassamento del monte in gaggi, un risparmio a bilancio di alcune svariate decine di milioni di euro. Quindi Ivan Gazidis con Ralf Reinic potrebbe decidere di investire sui giovani, giovani come Teo Hernandez, che abbiano un ingaggio che si oscilla dai 1,5-2,5, quindi questo è il range che potrebbe destinare a possibili nuovi acquisti il Milan e soprattutto, lato negativo, il Milan potrebbe privarsi di Zlatan Ibrahimovic, come potrebbe privarsi di Rebic, come potrebbe privarsi anche di Donna Roma. Questo ovviamente è un'estremizzazione di tutto all'estremo, però la linea è quella, il Milan deve abbassare il monte in gaggi, quindi rinnoverà un contratto a un giocatore di 39 anni a 6 milioni a stagione? Chi lo sa? Rinnova Donna Roma per 7, 8, 9 milioni a stagione? Non lo so, è un portiere, quindi il Milan farà tutte le valutazioni del caso. Quindi quello che è certo è che per la prima volta, forse, lato positivo, Gazzidi si assume la responsabilità diretta della sua scelta, quindi sceglie l'allenatore. Quindi se dovesse andare bene sarà merito di Gazzidi, se dovesse andare male per la prima volta sotto la luce dei riflettori ci andrà lui, Ivan Gazzidi. Secondo punto di forza, Ralf Ragnic firmerà un contratto triennale con l'opzione per il quarto e questa c'è l'opzione di programmazione, che è la chiave del successo. Il Milan non programma da anni, il Milan cambia ogni anno l'allenatore, forse con Ralf Ragnic avendo un contratto triennale la società ci penserà due volte e decide di mandarlo via e supporterà con forza e anche per i giocatori sarà un segnale di fiducia nei confronti della guida tecnica, che è cosa che manca da molti anni. E soprattutto il Milan deve andare a investire, io posso condividere il progetto giovani, ma questi giovani devono essere cercati, selezionati con un criterio, un criterio che spero venga scelto come modello Lipsia, che ha scelto negli ultimi anni i grandissimi campioni. Sono usciti come Timo Werner, che andrà a Bayern Monaco molto probabilmente, come Holland, come tantissimi altri giocatori che militano tra l'Ipsia, tra il Salzburg, sono stati scoperti per la buona parte da Ralf Ragnic, giocatori anche come Fosberg, grandi giocatori in Lipsia, con a te scelto da Ralf Ragnic a parametro zero dal suo show, essere uno dei migliori difensori della Bundesliga, sono tanti. Ralf Ragnic ha grande competenza, è un grande conoscitore di calcio, si ispira il Milan di Sacchi, è un mister molto preparato, quindi vedremo come sarà l'evolversi della stagione, e poi comunque il destino sembra segnato, il Milan sembra parlare tedesco, il nome sembra essere quello di Ralf Ragnic. Ovviamente noi continueremo a sostenere il lavoro di Pioli, Pioli è un grandissimo allenatore, però la scelta ormai penso che sia chiara, il Milan ha deciso di cambiare allenatore il prossimo anno, di ripartire con un nuovo progetto. Però tutti i migliori auguri professionali per Pioli, che finisca molto bene la stagione, così da avere anche lui un'ottima chiamata per un'altra squadra, perché è una persona veramente, un professionista esemplare che se lo merita. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube, Rubrica Rosso Nera.